...quadra e seconda, dietro ovviamente alla Russia e, come diceva giustamente Lorela Sakuman, rivediamo la classifica dei giochi olimpici e l'europeo di ginnastica ritmica, è un po' un campionato del mondo. Ecco una ginnasta bielorussa, anche la Bielorussia è un paese che ha mantenuto le tradizioni dell'ex Unione Sovietica con uno stile di lavoro particolarmente raffinato, con la cura nello studio delle composizioni e anche nelle scelte musicali. Questa ginnasta in particolare è raffinata, elegante, ampia nei movimenti, è una ginnasta di ottimo valore. Come dicevamo, dietro a queste performance si nasconde un lavoro di anni caratterizzato da ore e ore di lavoro quotidiano che lasciano poco spazio alle divagazioni. Ecco, alcuni studi di originalità si sono visti in questo campionato proprio perché il numero totale delle difficoltà è stato abbassato proprio per volere del codice dei punteggi e quindi le allenatrici e le ginnaste si sono dedicate anche alla realizzazione di elementi più personali di collegamento. Termina la palla la Valeria Kurinskaya mentre viene ufficializzato anche il 13.500 della polacca Markovska quindicesimo posto della classifica provvisoria quindicesimo posto anche per quanto riguarda il concorso a squadre subito dietro all'Italia attualmente la squadra azzurra Zancanaro, Laurito, Cantaluppi e in quattordicesima posizione del gruppo ad eccellenza di cui fa parte la nazionale azzurra Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!